Ciao a tutti, grazie per il vostro sostegno, ma per poter continuare il mio lavoro ho bisogno di un piccolo aiuto che non vi costerà nulla. Avrete notato nei box sotto ai video un invito ad iscrivervi al mio altro canale, è un canale di cucina soprattutto italiana ma non solo. Anche se non vi interessa la cucina vi prego di iscrivervi lo stesso e di cliccare like, basta questo per darmi un grande aiuto e chissà magari poi ci prendete pure gusto. Posso contare su di voi? Grazie mille in anticipo e a presto. Grazie mille.